La nostra prima correzione del colore avviene su un'immagine monocromatica in scala di grigio, anche se è codificata in RGB. Poche lezioni fa vi ho detto che nel nostro flusso di lavoro la cosa più importante è identificare il punto di luce e il punto d'ombra, ovvero i punti significativi più chiaro e più scuro dell'immagine, punti dove vogliamo ancora mantenere un qualche tipo di texture e di dettaglio. Per fare questo vi suggerivo livello di regolazione soglia e andiamo ad esempio per il punto di luce a sportarci verso destra. Osservate, abbiamo un'area qui che corrisponde alla manica, ma abbiamo anche un'area abbastanza significativa qui nella fronte dell'uomo. Non essendo particolarmente sicuri di dove vogliamo magari tenere dettaglio in questo momento, io metterei due punti di luce, il numero uno qui sulla manica e, cosa che mi sembra sinceramente più importante e più sensata, un numero due, tanto per avere una possibilità in più qui sulla fronte. Vi ricordo che Photoshop mi lascia mettere fino a quattro campionatori e non di più. Adesso andiamo a fare la stessa cosa con le ombre, qui non credo che abbiamo dubbi. Direi che la narice è molto significativa, ma queste parti più scure sullo sfondo, se anche si chiudessero un po', non mi darebbero difficoltà. Quindi vado semplicemente a porre il mio punto d'ombra qui. Fatto questo, non ho più bisogno del livello di regolazione soglia e me ne posso liberare. Il risultato è che mi ritrovo nella palette di info due punti, tra l'altro vedete con una luminosità molto vicina, 219 in tutti i canali il primo, 213 il secondo, sono solo 6 punti e un 22 da queste parti. Chiaramente dei punti abbastanza chiari e parecchi oscuri rispettivamente, però quello che mi interessa è capire se ci sono dei limiti a cui devo spingermi. Quello che mi conviene fare, e conviene sempre settare un punto di luce, un punto d'ombra in questo modo, è di avvicinarmi a valori canonici che prescrivono 245 in tutti i canali per il punto di luce e 10 in tutti i canali per il punto di ombra. Sto naturalmente parlando di numeri RGB. Perché non 255 e 0? Perché, come dico spesso, è come correre in cima a un grattacielo senza ringhiera. Se poi andate a fare delle altre manovre che possono ancora stirare un po' il range dinamico, non volete correre a un centimetro dall'orlo, volete in qualche modo mantenervi un cuscinetto e una distanza di sicurezza. Di conseguenza risparmiamo e sacrifichiamo anche 10 punti luminosità per essere sicuri di non avere problemi più tardi. Andiamo a vedere a questo punto livello di regolazione curve, spostiamo la palette di info e andiamo a vedere. Io direi che teniamo il primo punto, visto che è così simile come luminosità, al secondo anche se sembrano molto diversi, e andiamo a dare questi valori che vi ho appena dato. 245 in tutti i canali. Il primo punto è una luce, quindi lavoro sulla destra e vado a fare questa manovra tenendo d'occhio la palette di info. Sposto la curva verso sinistra fino a che non arrivo a 245. Se poi è 244 o 246 non cambia molto. Il 25 invece, che era 22 prima ma poi si è spostato un po' a causa della curva, lo porto a 10 e quindi tiro la curva da questa parte e arrivo a questo valore. Attenzione che la luce, se vogliamo essere precisissimi, si è spostata un po'. A questo punto spererei di poterla rilavorare e avere i punti perfetti, 245 e 10 rispettivamente. Il punto sulla fronte, che già prima era un pelino più scuro, è rimasto a 238. Andiamo ora a vedere. Questa era l'immagine prima e questa era l'immagine dopo la nostra azione. Questo è molto interessante perché non solo l'immagine sembra più luminosa, ma se guardate sembra anche più dettagliata. In realtà non è così, è soltanto più contrastata. Perché il ruolo principale delle curve è di andare a creare contrasto su tutta l'immagine, come in questo caso, oppure nei singoli canali. E questo, oltre che il contrasto, altera anche il colore. Come si fa a enfatizzare la parte che ci importa di più del soggetto? Io direi che la parte che ci interessa di più è il volto. Andiamo a selezionare all'interno della finestra curve la famosa manina e andiamo a esplorare l'immagine. Questo, se guardate ora la curva, si traduce in un puntino che si muove tra le parti più scure e le parti più chiare di ciò che stiamo esplorando. In buona sostanza abbiamo scoperto che il nostro soggetto vive, per quanto riguarda il volto, tra questo punto e questo punto. Per enfatizzarlo, dobbiamo fare una curva a S. Quindi prendiamo questo punto, lo portiamo verso il basso, io ora sto molto esagerando, sia chiaro, e questo punto lo portiamo verso l'alto. Questa è un'ulteriore esasperazione del contrasto. Volendo, ci abbiamo guadagnato ancora per quanto riguarda il volto, ma attenzione, ci sono delle parti, ad esempio qui nella barba, che cadono in un'area dove la curva va ad appiattirsi, e idem per quanto riguarda le ombre. Dove la curva tende ad appiattirsi, noi perdiamo dettaglio e contrasto. Dove la curva invece è più ripida, noi acquistiamo contrasto e dettaglio. E si arriva così a quello che io chiamo il mantra della correzione colore, frase coniata da Dan Margolis nell'originale The steeper the curve, the more the contrast, ovvero più la curva è ripida e più è pronunciato il contrasto. La verità è che siamo passati da un'immagine che era così a un'immagine che ora è così. Se pensiamo di avere esagerato, possiamo ridurre un pochino la pendenza di questa S e comunque abbiamo sempre un margine di manovra perché, come sapete, i livelli di regolazione non sono distruttivi. Quindi, scopo di questa lezione, farvi vedere come regolare il punto in luce e il punto d'ombra in un'immagine è come dare contrasto con una curva S che per inciso non potrebbe mai essere realizzata con la regolazione livelli in quanto livelli, come sapete, ha un punto solo, a parte i punti estremi, su cui intervenire. Nella prossima lezione, un'immagine a colori. Grazie. Grazie. Grazie.